Musica È stata una regata molto bella per noi perché è stato un trio che è venuto fuori per questa regata con il cuore proprio perché Rinaldo è stata la persona che ha messo i miei fratelli in barca la prima volta tantissime ne fa qua ad Alassio e adesso abbiamo colto l'occasione per rinirci Musica 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 Musica